Tra poco ritorna il fantasmino più dispettoso della tv. Su Italia 1 sta per iniziare una nuova avventura di Casper. La mattina di Italia 1 sta per regalarvi una nuova puntata ma non dimenticate che altri cartoni sono con noi ogni pomeriggio a partire dalle 4. Tra poco inizia una nuova avventura. Arriva la principessa Fantagirò. Buon divertimento con Italia 1. Nella mattina di Italia 1 sta per arrivare una nuova puntata molto animata. Buon divertimento! Era l'ultimo cartone di questa mattina ma il divertimento animato ritorna domani a partire dalle 7 e ogni pomeriggio alle 4. Buona giornata con Italia 1!